ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono Tigron43 e quest'oggi giocheremo a Brawl Stars con Lorenzo è tornato sul canale proprio oggi l'avevo portato una settimana fa e questo è il suo secondo account sul suo primo ha molti più brawler e ha pure due leggendari ok vi lascio al video che dici Lore iniziamo con footbrawl? ma si dai raga non so se oggi ma sicuramente uscirà il video nel mio secondo account nel suo primo voleva dire nel mio primo nel mio primo perché questo è il mio secondo come già ha detto Ema è un buon account anche il secondo perché c'ho basta 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 non ti perdere in chiacchiere con gli iscritti grande e segna Lorenzo bello bello sto gol veramente ok ok è vostro e sto spike ah lo spike è l'unica cosa no è Marco lo spike ma dai si chiama zizi zizi c'ho una ulti eh pure io no 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 si è fatto si è fatto autogolle lo spike non mi di no se si è fatto autogolle mi inquieto inquieto male eh bello bella va vai vai carico fuori bianco urto dai 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 oh bello bello bella partita spiego raga cosa è successo o l'hanno visto spiega spiega allora il nita aveva la palla eh no non aveva la palla io avevo pochissima vita e c'era una palla vicino eravamo uno accanto all'altro vabbè non gli interessa non gli interessa vero che non non gli interessa e quindi io mando via il nita con il fuoricampo di bibi e segno cioè raga è stato proprio che gli mancava mezzo col petto e mi uccideva ok andiamo a giocare avevo 143 di vita sai com'è no ok ho palla o io nelle partite di put brawler ho sempre palla ok ci fa la bibi raga raga no dai è spawnata la bibi proprio in quel momento beh certo si chiama spiga lo sai oh fuoricampo e te ne vai a va e la cacca cacca per non dire altro no che spiga questa no è è nubble bull che non c'è andato subito ok bello bella fine la mia la tua si 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 no guarda 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 no 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 questa questa si chiama proprio s f i g a somiglia a un'altra parola con lo spelling però è sfiga è sfiga è sfiga è sfiga cioè proprio sfiga così proprio in cenere proprio che la lanci perché sto dicendo che si lancia la sfiga non ho capito vabbè raga sto male sto male andiamo a giocare così almeno sono giustificato spero non ho speranze ah pensavo che eri tu a dover mettere pronto ero io metto gioca perché non hai messo bibi perché boh perché ci serve il fuoricampo a sto punto dimmelo la mettevo io e un gol gliel'abbiamo regalato no non gliel'abbiamo un gol gliel'abbiamo proprio regalato eh si è il loro compito oh rega ma sono troppo forti c'hanno emz emz ce l'ha pure io e mettila genio del male ma male genio è il brock se si fa autogol come è successo a me cioè raga ci avete ci avete presente la championship a football mi sono fatto autogol ciao 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 colt no vabbè che che odio sto gol che ci hanno fatto proprio odio totale metti bibi no mettila tu no io metto emz raga ci fermiamo un attimo eh eccoci eccoci che giochiamo purtroppo è ma purtroppo ha dovuto stoppare il video ed è successo un casino qua qua ok 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 no ciao non urlare è venuto proprio addosso alla mia urtica non fare me ne vado me ne vado me ne vado e vai dai oh un po' di animo c'è ho segnato vai vai corri tira tira ma l'ho fatti rosicare e vai volevo dire con la ultima e farli rosicare ancora tutto però niente non è stato possibile as aspettiamo che lui metti pronto oh 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 oddio c'ho voglia di nutella biscuit come l'altro video ok il basso via l'intimo gol gol ragazzi 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 ma sai che c'è io me ne vado qui così passa 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 mi vado io tutto fiero mamma mia signori tutto proprio so proprio una bomba che scoppia proprio PAAH c'è ragazzi io c'è quanto son magico quanto son magico eccoci eccoci e ma che mi dici altri 5 minuti poi stacchiamo dai si si se no i video e voi diventano troppo noiosi è vero vai metti no 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 vai facciamo questo e poi mettiamo sopravvivenza vediamo come andrà sopravvivenza ora però giochiamocela eh direi bene ho fatto una oh no questa squadra in teoria è scarsa no è buona è buona no non la nostra la loro eh no dico la loro è buona mi scuso per il lag pure per quello ci si scusa sempre eh se no aaaaaaah vabbè mi aspettavo di troppo in mezzo a tutto quei pinguini ma in realtà non c'è mister qui vabbè grande grande ok se mi da no no stiamo a scherzà no vabbè questa è stiga vabbè grande la tua ultima ok 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 vengo io di ulti vengo io di ulti mia ok mi scatti sto ultando vieni stavo di ulti se c'eri avevi segnato più o meno e grande e grande ha segnato si è fatto un gol è legato come un ricciolato dopo che ore perché quando i ricci nascono hanno tutti gli aculei aperti che sono felici questo sto scioglie lingua potevo evitarlo ma sì va bene sì va bene perché vabbè stavo provando l'importante è vincere in realtà sarebbe partecipare ecco occhio che c'è una palla che ti segue ma perché non va a segnare sì rani ha segnato ora facciamo sopra poi facciamo anche sotto vivenza sopravvivenza e sottovivenza ok la battuta potevo evitarla ma proprio malissimo oh uso Penny non dico perché si chiama Penny ok ok vabbè proprio pensavo di essere la Penny giusto per ok io sono morto mi sono stato glorificato per te non vedo mai perché tu non senti niente faccio solo vai ok 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 grande grande che tu prendi ma prendi il mio power up no perché 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 quel Frank deve spawnare proprio lì così proprio a spruzzo ok ragazzi per oggi è tutto se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche a 50 iscritti porterò la webcam e ciao ragazzi ciao